Ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Dragon Ball Xenoverse 2 Dunque questa volta però con un video particolare voglio farvi vedere il mio rost dei personaggi Però prima ammirate qua il bel completino nuovo di Kirito che è il completo di Trunks a parte i guanti E voglio farvi vedere appunto l'elenco dei personaggi che ho io Eccoci qua Allora come potete vedere come vi ho mostrato la volta scorsa per sbloccare Hit Qui abbiamo i personaggi che ho sbloccato fino adesso Non so questi qui che mancano non so come poterli sbloccare ma penso che saranno quelli del Season Pass E voglio mostrarvi i personaggi che si possono ottenere praticamente con i desideri A parte abbiamo ecco qua Su Shendron e Sun Shendron che si ottengono con il secondo e il terzo desiderio dei personaggi utilizzabili E qui abbiamo Omega Shendron o Super Ischilon Non so perché l'abbiamo chiamato così E qua hanno mantenuto diciamo i nomi che usano anche in Italia però boh Qui abbiamo Hit come vi ho già detto la volta scorsa E qui abbiamo niente poco di meno che Black Goku Sì senza il Potara però raga E non so perché non gliel'abbiano messo perché qui Ah no sì cioè si vede si vede si è nascosto raga se voi zoommate lo vedete E lì vedete? Bastava a zoomare un pochino E niente raga questo breve video si conclude qui Volevo mostrarvi i personaggi che ho Che alla fine sono riuscito a riscattare Black Goku dal codice lì di Amazon E basta raga Non c'è altro da aggiungere Se non che Qui abbiamo Dove è Non è finito Qua non so perché ce lo fanno vedere normale Però vabbè Io come sempre vi invito a lasciare un bel like A commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto E alla prossima Ciao bello